Il regolamento del CSI abbiamo perso contro una squadra che ha fatto 26 punti e meritavamo noi sulla carta dopo il playoff così. Questa sera siamo stati sfortunati, abbiamo preso un sacco di pali, traversi, non voleva entrare. 0-0, era bastava un gol e eravamo posti. Ma niente, vedremo di arrivare i primi l'anno prossimo in modo che non dobbiamo più fare il playoff. Faremo di tutto. Ma andata così.